Musica Ciao a tutti ragazzi bentornati su Untarned Allora scusa la puntata eravamo un po' nella merda essenzialmente Perché? Perché abbiamo finito tutti i colpi di tutte le armi Possete immaginare vedete abbiamo un cecchino E' detto che ho levato il site Oh si ora lo mettiamo scusate Mi ha detto anche che dovevo Prendere la pistola in questo caso questa ok Fare T e levare il soppressore per ora ok E metterla invece sopra al cecchino Perché è un po' più figo di te quindi va ok Oh si ok perfetto Allora abbiamo munizioni però abbiamo la bellissima katana Che è troppi E' detto anche che questa cosa ha bisogno di un generatore Quindi non potremmo usare per il momento Però per il momento abbiamo anche lasciato qui le cose da Insomma abbiamo lasciato le cose Oh è cresciuta Abbiamo cose da mangiare ragazzi Carote perfetto Allora andremo verso quella cosa che dovrebbe essere una base militare in teoria A trovare delle munizioni e in teoria anche un nuovo zenetto si spera Perché davvero ne ho bisogno tantissimo E lo voglio Regoliamoci che ogni volta che esponiamo abbiamo tante robe in più Perché rispono la roba stranamente È un bellissimo bug ma dettagli Allora oh merda Oh merda Ok deciso Opla Infatti tipo i tizi prendono un sacco di botte E dovrei avere delle skill in più 17 sono pochissime Certo possiamo fare marchman Ok Abbiamo un upgraded marchman Ok si sarebbe tipo un po' più potente adesso Oh A posto Fanno Fa abbastanza male devo dire questa katana E oh Campo militare si Perché vedevano infatti abbastanza militari Quindi è giustissima questa parte Adesso alcune bacche sono buone però quelle rosa Restante invece Sono pericolose Soprattutto quelle lucinogene che abbiamo già provato tempo fa E non è un'ottima idea Che dite Direi proprio di no Ah no forse non l'ho provato Come voi l'ho provato in single player A random da solo Dettagli O che sono pericolose Queste Non ci sono dubbi Queste sono bacche Pale Palli Palli sono le bacche Non lo so Strano Ok Di qui non c'è nessuno E parliamoli Ci sono C'è tutto Devo trovare lo zenetto verde Mentre hai detto che è il migliore E super OP Quindi qua lo prenderò ragazzi Ok Ucciso Vediamo altre Bel po' di esperienze Con un sacco di Ehm Kilogrammi Insomma Sostenere Siamo un po' più lenti Quando abbiamo più roba Vero? Ok Ah volevo fare un po' stealth adesso Andiamo a cercare un po' Dappertutto Delle risorse Ma prima di tutto Un bel backpack Bello grande ragazzi Ci serve Ok Qui c'è un piccolo amichetto Che io ucciderei Sicuramente Troverei Andando ad andare lì sopra Potrebbe essere un'ottima idea Ok merda Siamo un attimo Stesi No siamo stesi Siamo tipo Ranicchiati Ok Insomma potrebbe esserci qualcuno O non ci interessa Vediamo un po' di qua Ok nessuno Aspetto Oh merda Ok Stesi per terra Facciamo un po' di Piccole cose stealth Ok Andiamo a controllare In questa No Nel mitore normale Pensavo forse di infermeria Invece no Un'arma Un fucile Ottimo Delle munizioni Perfetto Ah mi hai detto che c'è una wiki Però al momento non l'ho vista tutta Avevo visto qualche stronzata Quindi adesso non mi può interessare di meno Però Qua c'è un shield Ok Lì c'è un bazooka Ah no Oh merda Zombie Mi ha sentito ragazzi Tranquilli tranquilli Facciamo così adesso Ah merda Ma peccato Stronzo Dovrei avere Qualcosa per curarmi In teoria Frank Merda Ok Dovrebbe essere un milino In teoria Ok Curiamoci un pochetto Un milino ragazzi Ok silenzio Uh Ok per 6 In teoria possiamo fare così Possiamo fare Andiamo a 4 T Per 6 Boh ragazzi E che cos'è qua Sono un cecchino P Ottimo Non abbiamo ancora delle munizioni Ma quello Abbiamo dettagli Allora Io certamente non andrei molto stealth Farei molto figo Tipo uccidi tutti Che se ne frega Però proverei ad andare di sopra Proviamo a vedere se c'è qualcosa di bello Anche se non so come si scende poi In teoria dovrebbe essere abbastanza pericoloso Scendere poi di qua Oh Oh Bello PDV E Un nuovo fucile abbiamo Nice Abbiamo anche Cantina Giusto questo Possiamo recuperare dell'acqua Se vogliamo Ok Devo metterlo qua più o meno Perfetto Ok Perfetto È tipo un fucile d'assalto Penso sia No Merda Ah Merda Lo sapevo io Sono ben detto che è pericoloso Ok Non penso sia il massimo Sicuramente usare questo fucile Non so come si scende da quelle scale di merda Perché cado sempre Ok Diamo un po' C'è un altro piccolo dormitorio di qua Ma niente ancora robe fighe Per il momento Ok Stendiamoci Oh lì c'è qualcosa di interessante Anche l'isotto Una carota dovrebbe essere Ah comunque mangiamo ragazzi nel mentre Stiamo un attimo stesi qua Nell'angolo Ok Fresh carrot Buone carote Non ho anche un bel po' In effetti Eh vabbè Mi sembra giusto Ok Perfetto l'acqua dovrebbe bastare Dual point Ok Io vorrei Lo mettere qua sopra ragazzi Su fucile Ok T Dual component rail Dual point Ok E dual component rail Va bene comunque Ah no Ehm Facciamo questo Ok si va molto meglio Ok Dovrebbe essere Penso una carota No Cos'è Cosa cavolo è Ah ok Il chemlight Giusto E qua vabbè Se dici un giornale Penso Cosa del genere Ma lì ci sono dei rag Mi interessano Ok Voglio trovare quello zenetto Ragazzi Perché se non quello zenetto Siamo Perfettamente Messi bene Per il momento Abbiamo le gamberotte Quindi non è proprio il massimo Tranne se ci curiamo Nato machine Penso che sia di questo Probabilmente Eh Io farei in questo modo Diamo un po' la batteria Allora adesso le batterie Possiamo anche lasciare Perché ho detto che sono inutili Quindi ok Ecco di qua infatti Come dicevo Ottimo E T Ah ok Non aveva Ah ok Non aveva il caricatore sotto Perfetto Aveva già delle batterie Delle cose Però non aveva il caricatore Perfetto E abbiamo anche delle backshot Però vabbè Per il momento non ci interessa Lenzo Ok Questa la teniamo E Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Di importanza Questa cosa Non ho capito Vabbè Una cosa strana È Troppo strana Ok Abbiamo anche una granata Però io direi Beviamo qualcosa Va Beviamo un po' d'acqua Avete Avete Potremmo riempire da capo Ok Ok Facciamo un attimo Un giro di qua Ok Vediamo un po' Se c'è qualcuno C'è un moolto Stealth Perfetto Non c'è nessuno Ok Nessuno Vediamo questo Del dormitorio Doveva essere L'ultimo A meno Questa parte Ok Sembra non esserci nessuno Perfetto Però c'è un paio Di cose buone Tipo quel caricatore Swift Ok La pistola Secondo No qual è la pistola Dove ho messo la pistola La pistola è la terza Ok Ottimo Un paio di munizioni Niente male E dovremmo avere un altro caricatore In alto Perfetto Questo mi serve anche Qua No Ok Con questo fucile Ok Non abbiamo munizioni Al secondo Vero Eh si ok Abbiamo caricatori Uno swift Anche Swift machine Ah cavolo Non ho Cam Cam light Possiamo anche levarla Oh bello Queste munizioni Ovunque Tipo Bella roba E lì ci ho messo un altro swift Giusto Swift Eh si E dovrei un attimo Entri a questo Ah ok Sette munizioni Sono qui dentro Eh dovrei un attimo Butta qualcosa Ah potrei fare così Dual point Oh figo Ok Sono una munizione Che merda Ah ok Qua sono tre Ah ok Perfetto Ora riprendo tutti e due Riprendo In questo caso Ok A posto Andiamo più avanti Comunque le nostre gambe Sono riprese Molto Bene Devo dire anche Ok Il problema è che Devo capire come funziona La discesa poi Oh qua abbiamo Dei military Bullet E qua abbiamo Anche Un suppressore Nice Suppressore mi sarebbe Davvero molto utile Io butterei Per adesso La padella Tanto non ci interessa Tantissimo Prendere il suppressore Lo metterei Non qua Ma qua Come ditti Suppressor Perfetto Ok abbiamo Delle shields E Anche dei military Battle Bullet No merda E perchè Cade comunque Ragazzi non so come si scende Vabbè Dettagli Allora abbiamo Sopressione Quindi in teoria Dovremmo riuscire a Uccidere gli zombie Anche senza problemi Il problema è che Non possiamo scappare Nel caso ci prendono Quindi Facciamo molta attenzione Non cerchiamo di fare Tipo L'errore della situazione Perché potrebbe essere Davvero molto pericoloso Ma cosa Ok Merda Merda Oh merda Oh cristo Ok ci ha fatto un bel po' di male Ragazzi Ci servirà del rug Ci servirà per recuperare vita Merda Non abbiamo più rug Wow Siamo nella merda Ragazzi Che bella cosa Adesso non abbiamo più munizioni Su la nostra pistola Vero Ok Abbiamo usato una munizione Perfetto E tutto questo caricato è vuoto Vabbè Munizioni vuote Dettagli Oh cavolo C'è tanta gente In effetti Parliamone Di qua C'è qualcuno Devo stendermi In teoria potrebbero fare Uccidere anche una strage Senza tanti problemi Però ho paura Di morire Non c'è tantissima gente Però dai Facciamo una strage Va Non l'ho ucciso Non se ne manco accorto In effetti Non posso nemmeno correre Merda Sarebbe davvero molto utile Se potessi correre Magari Di qui ci siamo già stati In teoria Sì perché abbiamo preso Qui dentro Qualcosa Ah se poi ci sia qualcosa Qui sopra Ho sbaglio No non c'è nulla Ho visto male io Ok Eh Andiamo a vedere ragazzi Di qui dentro Diamo un po' Uno zenetto ci serve Ci sono ancora due prestazioni Io le vedrei Prima che arriva a notte Perché poi Un bel problema Che cosa E nel frattempo Ok Non se ne è accorto Ancora nessuno Che bella cosa Oppressore inutile Ma sembra che siamo bugati Tipo Ok Nessuno ancora Si è accorto di nulla Eh sì Col cavolo Ok Per ora ancora nulla Facciamo un po' La strage di qua Va Qui dentro c'era qualcuno Mi sembra Cosa c'è qui dentro Oh Dei chiodi Si no Dei bolts Oh Un dressing Ok Eh Mi sembra buttare qualcosa Questo è vuoto Si Ok E poi potrei Ah forse ho capito ragazzi Come funziona Ah Ok Forse Ho capito ragazzi Allora In Crafting Andiamo qua Ok Facciamo questo modo Mettiamoci questi qui Per esempio Ok Al contrario Tipo Ok E forse Crafta qualcosa Beh Bella domanda Non l'ho sempre chiesto Va bene Comunque Stai arrivando la notte Sarà molto pericoloso Se non ci muoviamo Andiamo un po' Qualcosa c'è qua Non sembra Ah lì c'è qualcosa Si Oh merda Qui ci sarà qualcuno Probabilmente Chiodi Chiodi Non ci interessano Andiamo avanti Di qua Avevo ucciso tutti Di qua c'era qualcuno Però adesso Non lo vedo più Dov'è andato Oh Eh Eh ma mi fa entra sta cosa Non vedo più nessuno Non vedo Oh qui c'è un po' di faretti Un po' di cose belle Anche il tiro a segno Ok Oh merda Oh merda Oh merda Ok Wow Tipo ho spuntato davanti È stata una pessima idea Secondo me Ok Qua niente Andiamo di qua Allora noi dovremmo curarci Come ho detto Vero Cristo santo Quanta gente c'è Non c'era nessuno Eh Merda Ok Oh merda Ok Ci si Ci si tutti Bam Ottimo Allora curiamoci un attimo Qua c'è qualcosa Le vitamine Le vitamine mi servono E Dressing Ok Ottimo Ok Nice Vitamine 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 Dovevo mangiarle Perché così almeno Levo Quella cosa lì Ok Perfetto E anche sta cosa Che dovrebbe essere In teoria Antibiotici Ok Ottimo Vediamo un po' Cosa altro c'è di qua C'è un Flashhider Non so che serve Probo Ma la domanda Un MRE Cos'è un MRE Standard Military Ah ok Cosa da mangiare Insomma Ok Qui c'è un Caltrop Un military Bullet Un po' di stronzate Varie Ah Andrì sopra Ragazzi C'è un Mente Anche per adesso Non abbiamo più munizioni Che bello Ah ma E' vero nella merda Siamo OI Ok Sì Non abbiamo Proprio munizioni Saliamo un attimo su Ok Qua Calidoscopio E Sta stronzata Va bene Ok Davvero Non so come si scende Ah Ok Perfetto Bisogna fare Molta attenzione Ma più o meno Ho capito Ok Ok Dettagli Dettagli Ottimo Allora andiamo un attimo Dall'altra parte Che è l'ultima E poi in teoria Dovremmo anche campeggiare Da qualche parte Io Troverei qualcos'altro Certo Per campeggiare Perché potrebbe essere davvero Pessima Questa zona Tutto per il fatto Che è notte Non si vede una mazza Lo so ragazzi Non si vede una mazza Uh Cristo Tu che ci fai qua ancora Ok Io salirei qui sopra Ma siamo a campeggiare Anche se in teoria Non c'è tanta roba Dia un po' Oh Guarda Eh Però l'ho sbagliato Un attimo a salire O salire un po' più sul lato Ok Oh 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 Spostati Ok andiamo su Vediamo un po' Cosa di buono Enso Questa cos'è Un binocolo Ah laser Laser Ok Laser ottimo In effetti Se facciamo questo modo Mettiamo su questo Ti Oh ragazzi Ma che figata è Oh Nice Mi piace davvero Ok perfetto Abbiamo fatto super cecchino Però non so bene Come funzionano le bullet Ancora Vabbè non è un grandissimo Problema penso No Guarda Eh che cavolo Sapevo che cadevo Ok Non abbiamo munizioni Non sappiamo bene Come funziona L'ultima parte Quella più importante Delle munizioni Come si craftano Ma forse Un'idea ce l'avrei Queste Allora Questi sono I miliatori Bullet Ok In teoria PDV Che adesso non ci interessa Non so bene Come si fanno Ste cose Brava domanda Vabbè Lasciamo stare Ok abbiamo costato di tutto Non c'è nulla Di quello che ci interessa Ovvero del backpack Però vabbè Almeno abbiamo fatto Una piccola Impatriata Qui dentro Non troveremo mai nulla Di qua Sicuramente A meno per il momento Non abbiamo trovato nulla Magari ci torneremo Magari in futuro In questa piccola zona Tipo Tra qualche puntata Troveremo qualcosa di bello Nel frattempo Continuiamo da questa parte Cercando di vedere Se c'è un zombie Mi raccomando che di notte Ancora peggio E ok C'è dell'acqua Ottimo Dove posso Mettermi a recuperare Un po' di salute E magari 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 Andiamo da qualche altra parte In futuro Non c'è tantissima roba Da vedere Se c'è un altro di qua C'è una strada No non c'è una strada Dovrei trovare un piccone Dovrei trovare Perché potrebbe essere Davvero molto buono Questa cosa Niente Zombie non se ne vedono Questa cosa mi fa Molto piacere Punizioni Quanto meno Non se ne vedono Bacche blu Non van bene Ok ragazzi Allora Mettiamo un attimo Nostra cantina Andiamo a recuperare Un po' d'acqua E magari Ci fermiamo anche qua Ok Perfetto ragazzi Allora Da voi siamo Tessi di tutto Ci vediamo Nel prossimo episodio Ditemi cosa è il pensato Di tuo fucile Tipo super OP Che è tipo una cosa Bellissima Dov'è il laser? Ok funziona Che sembra davvero Molto bello E Boh nient'altro ragazzi È bastante pericolosa La mia cosa Però Sembra C'è Qua non è una roccia normale Ok ragazzi Lì ci vedo una casa Di fronte Ci andremo nel prossimo episodio Per adesso Vi dico che da lui Sono tessi di tutto Ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao ragazzi Ehi tu Sì Dico proprio te Sei nuovo da queste parti? Sì? Allora mi presento Io sono Lisse E questo è il mio canale Qui potete trovare video di Minecraft Ma non solo Il canale è anche pieno di video di gameplay Quindi Che aspetti? Io non so verlo più da vicino Persone o animali o bambini Non sono stati sfruttati per la realizzazione di questo video Io sono stati sfruttati per la realizzazione di questo video